E allora, tutto alla grande, stanno arrivando, li presentiamo live dal vivo, sono arrivati qua nella notte della capitale, sono arrivati qua gli scordi domani e sono qua alla grande, sono pronti. Uno di loro è microfonato alla chitarra e non so se è David, giusto? Luca, Luca. Ah, io vedo Davide, Luca, quindi Davide, lui, Davide chi è? Davide, sei tu? Sono io. Come va, bene? Tutto a posto. Da dove venite voi esattamente? Veniamo da Roma. Roma dove? Roma a Via Nomentana. Quindi da queste parti? Via Nomentana, sì. A Via Nomentana, bene, da quanto tempo insomma avete formato questo gruppo? Diciamo il gruppo al completo ha preso il via da questo inverno, però il progetto è iniziato l'anno scorso, verso l'estate insomma. Che tipo di musica fate? Noi facciamo pop rock, però oggi abbiamo portato un pezzo di prodotto in Unplugged, con le percussioni l'abbiamo sostituito con i bonghi, la chitarra acustica, quindi non è elettrico il pezzo oggi. Perché voi di solito fate musica elettrica, quindi diciamo. Sì, sì, di solito facciamo musica elettrica. Una figata, quindi sarebbe bello poi un giorno vi inviteremo nel weekend per sentire la vostra musica elettrica, quindi anche un po' house, eh? Sai qua c'è parecchio house, non è house? Sì, sì, no, no, non è house. Ah, no, vado a pensare house, io stai a fare un terreno. Sì. Va bene, allora pronti, so che avete parecchi fan, adesso ascoltatori, qual è la canzone che ci state presentando? Mister White. Ed eccola qua, talenti della notte romana, velocissimi, by night Roma, gli scordi domani sono... Radio Radio by night Roma, Radio by night Roma, presenta i nuovi talenti della notte romana. Momento live. La notte romana, velocissimi, by night Roma, è una notte romana, velocissimi, by night Roma, è una notte romana. Qualcuno mi spieghi questi pensieri che mi girano in testa e intorno alla testa qualcuno lo sa il perché. Ora ho bisogno di un bisogno profondo di te. Con quale frase, con qualche nave che possa arrivare ad un perché. Mister White, lascia stare i dubbi che no, puoi capire, rischi solo di impazzire. Mister White, lascia stare i dubbi che no, io non so. Forse sto impazzendo. Turbini di colori, un fiume di suoni che lo circonda. Mille strade sul suo viso e una portezza molto antica. Cosa resterà di Mister White nella tua testa? Cosa resterà scritto di Mister White e giù da qui no. E non comprendo i mille segreti di te. Se vi entrano in testa, vi scoppia la testa, qualcuno vi salverà. Mister White, lascia stare i dubbi che no, puoi capire, rischi solo di impazzire. Mister White, lascia stare i dubbi che no, io non so. Forse sto capendo. Pioggia sporche e granine sopra la sua testa. Dove condurrai il pulso dei suoi sogni? Lascia tutto il suo cappello e sciolta la sua volta a barba. Lacrime che scendono sul tuo volto vecchio e sacco. Lasciati collare dalle dolci onde. Il tuo cuore sani mi ha smesso di vivere. Ma la tua mente non smette di cercare risposte che Trovano fine nel luogo dove Stai andando tu. Mi scordi domani alla grande, hanno suonato e cantato dal vivo, importante. Mister White, il mio voto è sette. Voto di fuori orario, velocissimi. Fuori orario, il tuo voto. Dobbiamo microfonare fuori orario. Gianluca Armagno, abbiamo uno dei cantanti con il microfono per il voto. Intanto vi dico qual è stato il voto ascoltatori dei due giurati di By Night Room. Ermanno Rosati ha dato sei. Vincenzo Corsi addirittura si è abbassato a tre. Come mai? Invece fuori orario, il tuo voto velocissimo. Non posso non dare un bel voto. Sette. Mi sono piaciute proprio tutte le cose che hanno fatto e detto però in maniera sentita. Allora andiamo di corsa per questi ultimi due ospiti di questo giovedì notte. Siamo dal vivo ascoltatori. tutto in diretta. Luna e cinquantotto arriva qua. Lo avevo già detto. No.